Marquez Angel e i tecnici Olivelli Filippo, Gabriele Stefano, Fiorentini Simone, Peri Pesaro, Adeltoni Diego, Bartoli Michele, Baro Quello Angel De Gesù, Bellucci Alessandro, Ciacorna Andres, Celati Gianluca, Celati Marco, Crinelli Cristiano, Di Giacomo Alessandro, Hernandes Iero Lazaro, Iacomucci Thomas, Lani Cristian, Pegna Flores Henry Antonio, Rospini Mirko, Ridolfi Filippo, Ridolfi Riccardo, Rodriguez Ronald, Vampa Alessandro, insieme a Gambini Davide e a Dodo, Fraternale e al Patboy Micheli Alessandro. La partita si disputerà agli ordini degli arbitri De Maria Mario Alberto Marco e Caringella Michele. Adesso invitiamo tutti all'ascolto dell'inno nazionale italiano. Grazie a tutti.